benvenuti in questa guida top 7 maglioni uomo di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo tommy hilfiger tommy logo zip tommy hilfiger tommy logo zip true è un maglione di qualità eccellente il tessuto è morbido e confortevole con una bella tonalità di blu la zip frontale è resistente e la stampa del logo sul petto aggiunge un tocco di stile ottimo per l'autunno inverno punteggio 72 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo armani exchange 8 n z m 3 di maglione uomo questo maglione armani exchange è di ottima qualità la lana è morbida e calda e la vestibilità è perfetta il colore blu è profondo e ricco e il taglio è moderno ed elegante un capo di abbigliamento di classe che non passerà mai di moda punteggio 75 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo cashmere zone dolce vita maglione uomo questo maglione è una vera e propria bontà realizzato con 30 per cento di cashmere puro e 70 per cento di lana pura è morbido soffice e caldo la manica lunga lo rende perfetto per le giornate più fredde il colore panna è davvero elegante un must have punteggio 82 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare tommy hilfiger 1985 essential th tommy hilfiger 1985 essential th flex sweatshirt maglione è una scelta eccellente per chi cerca un look casual ma alla moda il tessuto morbido e leggero offre comfort e stile mentre il colore verde prep aggiunge un tocco di freschezza ottimo per l'autunno punteggio 85 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo la costa a 1957 maglione blu marine un maglione di qualità eccellente il tessuto è morbido e resistente la vestibilità è perfetta il design è moderno la costruzione è robusta e durerà a lungo un ottimo acquisto per chi cerca un maglione di qualità punteggio 87 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo levis original hm suete felpa questa felpa levis è un must per ogni guardaroba maschile la morbida maglia in misto cotone offre un comfort eccezionale mentre il taglio classico e la tonalità grigia media conferiscono un look moderno una scelta di qualità che durerà nel tempo punteggio 93 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica tommy jeans t lunga m regular fleece questo maglione tommy jeans è una scelta eccellente per l'inverno la morbida felpa in cotone offre un comfort eccezionale e la qualità nevi è perfetta per abbinare con qualsiasi outfit la vestibilità regolare è adatta a tutti i tipi di corpo e il giro collo aggiunge un tocco di stile punteggio 92 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale grazie a tutti grazie a tutti